Ciao a tutti, questa è una piccola review di alcuni prodotti che ho acquistato quasi recentemente, negli ultimi mesi, che però non vi ho ancora recensito. Allora, innanzitutto ho aggiornato le matite labbra con le matite labbra di Essence, perché me ne mancavano ancora due e le ho comprate. Matite di Essence quindi 1,49€, budget bassissimo, qualità buonissima, la Essence non si smentisce mai. Il discorso che ho fatto per le matite di Essence che ho recensito nel video scorso vale lo stesso ovviamente per queste. Quindi ribadisco, mina morbida, che comunque non si sfalda troppo facilmente, buona durata e bellissimi colori. Quella che vi faccio vedere ora è la 08 Red Blush. Quest'altra invece è la 03 Hot Chocolate. Ok, poi ho acquistato il nuovo mascara della Maybelline, che è il Volume Express Black Drama, ovvero quel mascara con delle fibre all'interno. Questo significa che man mano che voi andate ad applicare il mascara, aumenterà sempre di più il numero delle ciglia, perché si andranno a depositare delle fibre contenute all'interno del mascara, che contribuirà ad aumentare appunto il volume, ma anche il numero delle ciglia e anche la lunghezza. Quindi diciamo che è un mascara innanzitutto che io ho provato e mi è piaciuto tanto, premetto, è un mascara che va usato soltanto se si vuole un effetto per nulla naturale, ma molto intenso, quindi diciamo non è un mascara per tutti i giorni in questo senso. E ancora di più non è un mascara da usare tutti i giorni, perché quello che voglio sottolineare è che è difficilissimo da togliere, da struccare. A me viene veramente, come si dice a bar, la sconfidenza a metterlo, perché soltanto pensare a quello che mi aspetta nel toglierlo, ci ripenso praticamente. In ogni caso, l'effetto che dà è veramente stupendo, e soprattutto considerando delle ciglia difficili come possono essere le mie, che sono tutte buttate all'ingiù, tutte dure, incurvabili, eccetera, questo mascara veramente fa miracoli anche senza piegaciglia, quindi comunque penso che valga la pena, soprattutto perché ha delle ciglia complicate, perché ha delle ciglia già belle, è un acquisto assolutamente sprecato, a mio parere, e che comunque, insomma, dipende anche dai gusti che ha ognuno. In ogni caso io lo promuovo, con la riserva, insomma, di usarlo in maniera parsimoniosa, ecco. Poi ho due sopracolor della Criolan, uno marrone e uno beige, stanno 7,85 l'uno, e la loro consistenza, vabbè ovviamente molto pigmentati, nulla da dire su questo, come vedete la consistenza, vedete, è molto, sono molto oleosi, molto grassi, molto pastosi, sono veramente molto belli, però, appunto, questa consistenza che hanno, troppo grassa, tende a farli depositare abbastanza presto nelle pieghe, e soprattutto durano veramente pochissimo, anche se applico la cipria, questo è da considerare. Quindi, non lo so, se i sopracolor sono fatti per avere questa tipologia di, non lo so, per essere fatti proprio in questo modo, nel senso che comunque sono in crema, ma sono una crema piuttosto grassa, si usano, infatti, particolarmente in teatro, ma io, avendo truccato a teatro, visto che questi, in confronto agli aquacolor, tendono a durare nettamente di meno, nonostante vengano ripetutamente incipriati e fissati. Al contrario, invece, gli aquacolor hanno un'ottima resistenza, questo è uno nero della Criolan, e questo è quello bianco, stanno 9 euro, e diciamo che bisogna saperli gestire, perché gestire una stesura di un aquacolor comporta, insomma, bisogna avere una certa manualità. Però, a parte il fatto di questa difficoltà che si può superare comunque esercitandosi, noto che comunque la durata è nettamente superiore, ovviamente l'effetto è molto più artificiale, perché un conto è un supracolor che è in crema, quindi anche molto modulabile, un conto invece è un aquacolor che chiaramente ha una coprenza elevatissima, infatti si usano nel bodypainting, non per nulla, perché appunto colorano tantissimo. Poi ho preso un altro supergloss di Kiko, ed è questo qui, marroncino con i riflessi dorati. Se vi ricordate, nel video di recensione precedente a questo, ho parlato di un altro supergloss, che è il 123, quello rosso fragola, che ha una coprenza scarsissima. Vi ho anche detto che, in quel video, c'è un ombretto, un lipgloss, sempre supergloss, rosso, che è però più coprente. Invece questo supergloss si classifica esattamente a metà strada tra i due che vi ho elencato prima, nel senso che copre nettamente di più del 123 e leggermente di meno di quell'altro rosso. Questo è lo swatch, e quindi, come vedete, il colore è molto più forte rispetto a quell'altro supergloss. Anche se prendiamo dei lipgloss della stessa linea, non vuol dire che abbiano tutti la stessa qualità, la stessa coprenza, la stessa durata. In questo caso, infatti, questo qui risulta più coprente, ma dura anche di più rispetto a quell'altro. Infine, vi faccio vedere un'altra piccola chicca, e con questo concludo il video. Ho preso altri ombretti della Kiko, li ho depottati, e li ho inseriti in una palette vuota. Una palette, chiaramente, che abbia lo stesso diametro delle cialde della Kiko, che ricordo essere 3,6, per chi volesse saperlo. La palette, quindi, si presenta così, e ho messo tutti gli ombretti della Kiko. Molti di questi li conoscete perché li ho già recensiti. Questo è l'81, un celeste satinato, e quando l'ho recensito l'ho bocciato pienamente, perché non scrive per nulla, non dura per nulla, non mi piace proprio la texture, è proprio zero. Forse è l'unico ombretto di Kiko che veramente, veramente non mi piace. A fianco abbiamo il numero 62, è un verde pistacchio perlato, e mi piace tantissimo il colore, è molto molto bello, però anche questo tende a non scrivere tantissimo, un po' meglio rispetto all'81, però anche questo, insomma, si fatica un pochino. A fianco abbiamo questo bellissimo, è un coppering, praticamente, se vogliamo. Sì, un bronzo, marroncino, dorato, insomma, il classico copper. È il numero 25, ha una scrivenza ottima, un colore bellissimo, un'ottima tenuta, e questo è nuovo. E infatti vi faccio lo swatch. A fianco abbiamo questo grigio matte semplicissimo, non ho scritto però il codice, ve lo metto nei fumetti. Questa è la scrivenza, ottima. Mi piace molto, devo dire. A fianco abbiamo il 01, che è un colore bianco matte, bellissimo. L'uso sempre questo, l'ho recensito comunque in un altro video, promosso comunque. Questo è nuovo, è il numero 122, ed è un colore marrone matte castoro. Anche questo, molto pigmentato. Eccolo qui. Molto bello. A fianco abbiamo il 115, l'arcialdo si è rotto, ho dovuto ricompattarlo in maniera pietosa. È un verde bottiglia matte, molto bello. Questo è uno dei più pigmentati, sicuramente, guardate. Bellissimo. A fianco ancora abbiamo un numero 07, che è il classico marrone matte semplicissimo, ed è questo qui. E poi a fianco abbiamo un coloro sferro depottato, il numero 01, quello bianco glitterato, e a fianco il numero 21, che è un bianco perlato. E questi due li ho già recensiti. Quindi, questa è la palette della Kiko. Vi ricordo che, comunque, basta che chiedete in qualsiasi negozio, se hanno una palette vuota, di che diametro è la cialda, e così sapete se ci entrano appunto i ombretti della Kiko. Ci va nella palette anche di Bennai, di Paris Berlin, credo anche. Comunque ne stanno un po' in giro. Detto questo, terminato con gli ultimi acquisti, vi mando un bacio, e ciao!